Sabato 4 settembre alle ore 20 nel Castello della Bate a Castellabate sarà conferito il premio Pio Alferano 2021 con la direzione artistica di Vittorio Sgarbi. Il premio viene assegnato ormai da nove anni a personalità nazionali e internazionali che si sono particolarmente distinte per il loro impegno a favore dell'arte, della cultura, dell'ambiente, dell'imprenditoria e del sociale. La serata condotta dalla giornalista televisiva Greta Mauro vedrà oltre ai premiati la presenza di altri ospiti di spicco del mondo dello spettacolo, della cultura e dell'imprenditoria. Il premio 2021 è rappresentato simbolicamente da una pregiata scultura in ceramica dello scultore Livio Scarpella, ispirata alla figura mitologica greca di Medusa. I premiati Kate Sciberas, storico dell'arte, Gigi D'Alessio, cantautore, Massimo Osanna, direttore generale dei musei del MIC, Federico Palmaroli, in arte oscio, vignettista, Gennaro Sangiuliano, direttore del Tg2, Luca Miniero, regista, Eleonora Yvonne, attrice e regista e Angelo Longoni, regista e scrittore. La premiazione sarà preceduta dall'inaugurazione di due mostre altri, una rassegna di pittura, scultura e fotografia dalla metà del Novecento ai giorni nostri, vertente sulla contemporaneità di Caravaggio e sul rapporto con Pierpaolo Pasolini. La seconda inaugurazione riguarda un'antologica di opere della pittrice svizzera Paulette Milesi, esponente di un cromatismo lirico che oscilla fra sperimentazione astratta e figurazione primaria, con testi di Vittorio Sgarbi e Gianluca Marziani. Grazie G – canale G – canale G – canale